Dal 6 all'8 settembre a Gabice torna il weekend del mototurista, curato dalla fondazione Visit Gabice e nel segno dell'inclusività con i ragazzi di Route 21. Si preparano dunque gli amanti delle due ruote per un'esperienza che li porterà alla scoperta del territorio. Nel weekend del moto mondiale a Misano, quest'anno come anche lo scorso anno e per la terza edizione, organizziamo questo evento dedicato agli amanti delle due ruote. Agli amanti del viaggio sulle due ruote e quest'anno con un'edizione speciale avremo in concomitanza anche la partenza di un evento che ormai è alla decima edizione, che è la Route 21, il Giro d'Italia con ragazzi diversamente abili. Siamo molto onorati di questa cosa perché l'evento avrà risonanza anche nazionale, abbiamo già ricevuto contatti con il Ministero delle Disabilità e vedremo di divertirci. La Route 21 nasce dieci anni fa appunto su una mia idea ma più che altro da un mio cruccio in quanto volontario presso altre associazioni e nasce proprio perché il concetto legato alla diversità, alla disabilità era diverso da quello che avevo immaginato io nella mia testa. Nel senso, ho creato questo progetto perché l'unica cosa che avevo da offrire quella volta era questa idea e la mia moto. Per cui praticamente con questo viaggio ho voluto sdoganare tutti quelli che erano i luoghi comuni legati alle persone affette con la trisomia 21, ossia la sindrome di Down. Ho visto per anni ragazzi intorno a un tavolo a fare dei disegnini senza che nessuno si prendesse cura di chiedere loro o se avevano voglia di farlo. E allora ho chiesto loro se invece volevano fare un giro in moto e soprattutto se volevano diventare dei motociclisti. La risposta è in questi dieci anni, in questi oltre 150.000 chilometri percorsi per le strade di tutta Italia e soprattutto il concetto che noi abbiamo portato con la Route 21 è stato quello che guardando una persona per ciò che è e non per ciò che ha, la risposta a tanti quesiti, a tanti pregiudizi è evidente e sicuramente è più alla portata di tutti.